buongiorno e ben ritrovati con estate in benessere seconda edizione del salute web fest che più di un anno fa ha dato il via ai nostri web fest un appuntamento importante che per l'occasione si è svolto in parte in presenza ma che non poteva ovviamente non approdare sulla rete e allora eccoci qui con una due giorni ricca di esperti e professionisti della salute della sanità e del benessere web salute e vivox vi ringraziano per la fiducia e l'interesse che sino ad oggi avete dimostrato buon fest e buone vacanze in salute